E' in programma per domani, sabato 4 luglio, alle ore 9, l'inaugurazione degli antichi sentieri dell'area naturalistica di Trentova-Tresino ad Agropoli, l'appuntamento in via Fontana dei Monaci, a pochi passi dalla Baia di Trentova, presso la nuova area pavimentata adiacente ai campi da tennis. Nelle scorse settimane la rete di sentieri e percorsi è stata interessata da interventi di ripristino e riqualificazione. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, è rendere l'area di Trentova, una delle oasi più attrattive del Sud Italia, concentrando l'opzione strategica sui servizi per la fruibilità sportivo-naturalistica-culturale dei diversi percorsi, così da promuovere e accrescere l'offerta di un turismo naturalistico e dello sport all'aria aperta, ipoturismo, trekking e mountain bike. L'inaugurazione avverrà in contemporanea con il comune di Capaccio Pestum, attivando così una buona parte della rete sentieristica Agropoli-Capaccio Pestum-Castellabate, così come da impegno dei sindaci dei rispettivi enti, nell'ambito del protocollo d'intesa, siglato il 6 giugno scorso, teso a garantire una forte azione unitaria rispetto alla promozione ai servizi turistici. La rete sarà completata nel giro di un paio di settimane, con la piena fruibilità dei percorsi fino al comune di Castellabate. Tra le varie linee di intervento è prevista un'azione congiunta di valorizzazione e promozione degli elementi di attrattività per il turismo naturalistico presenti sul territorio. L'area naturalistica Trentova-Tresino è di sentieri di Capaccio Pestum, quale punto di riferimento per appassionati di trekking, mountain bike, ipoturismo e tanto altro. Gli interventi hanno previsto il ripristino della Cala Scoglio del Sale, Cala Pastena, Terza Bretella, Cala Blu, Vallone, Nuovo Sentiero di Santa Croce. È stata predisposta apposita segnaletica, tabelle descrittive e cartellonistica, allestite panchine e tutto quanto necessario a garantire una maggiore fruibilità. È previsto il pagamento di un ticket di accesso simbolico di un euro a persona solo per i non residenti. I 75 ettari dell'area di Trentova, afferma il sindaco Adamo Coppola, venne acquistata al patrimonio pubblico nel 2016. Si tratta di un'area tra le più belle del sud Italia, dall'alto valore naturalistico e paesaggistico. Il nostro obiettivo è di far vivere e godere a tutti questo angolo di paradiso, nel pieno rispetto della flora e della fauna. Anche in virtù dell'emergenza Covid-19, i turisti in visita ad Agropoli potranno avere nuovi spazi da vivere all'aria aperta, i luoghi davvero unici. Un modo per favorire e sviluppare ed assistere la cultura dell'escursionismo e facilitare la conoscenza dei sentieri escursionistici ricadenti nel territorio comunale e la fruizione integrata della rete sentieristica, in collaborazione con le associazioni del territorio e i comuni di Castellabate e Capaccio Pestum.